Ci sono persone che hanno negli occhi la magia della vita, persone col sorriso di sole e la faccia pulita. Gli attori sono i suoi amici, quelli che hanno condiviso con Willy Monteiro Duarte momenti di gioia e di tristezza nei suoi 21 anni, interrotti dalla furia di un gruppo di ventenni di Artena che nella notte tra il 5 e il 6 settembre scorsi lo hanno picchiato a morte in pieno centro a Colleferro, dopo che il giovane di Paliano aveva tentato di sedare una lite in cui era coinvolto un suo amico. Ed il sorriso di Willy oggi diventa una canzone a lui dedicata, in cui viene mostrata la quotidianità del ragazzo, filmati ed immagini inedite, ripreso in tanti momenti di vita quotidiana, alle prese con lo studio, il lavoro, con le risate e con gli amici. Nel fuoco o nel vento potranno cancellare le nostre buone azioni, si legge nella prima immagine del videoclip, che vuole diffondere un messaggio di speranza, affinché mai nessuno riesca a spegnere la voglia di fare del bene, di essere cittadini esemplari, di perseguire la pace. L'opera, frutto di un lavoro spontaneo e indipendente, vuole aiutare la raccolta fondi istituita dall'amministrazione comunale di Paliano, in memoria del giovane Willy, figlio di una famiglia capoverdiana che vive di lavoro e sacrificio in ciociaria, ma anche di rettitudine e serietà, le armi che hanno fatto di Willy un eroe, caduto sotto il peso di una violenza inimmaginabile. Ci sono persone che hanno negli occhi la magia della vita, persone col sorriso di sole e la faccia pulita.